Ai cancelli della Linguiti di aversi i cartelli di protesta sposti ieri mattina non ci sono più, ma resta la rabbia dei genitori per le condizioni in cui versano gli esterni della struttura scolastica di Via De Chiara. La scuola bisognava aprirla però in condizioni adeguate, invece ci ritroviamo al secondo giorno di scuola con erbacce e quant'altro. Non sappiamo ancora se ci saranno doppi turni, rotazioni, siamo all'oscuro di tutto. Bisognava agire in tempi più ristretti in maniera tale da riaprire in condizioni adeguate. Non solo messaggi di protesta ma anche post e video di denuncia sui social cui i genitori lamentano la presenza di erbe incolte e pavimentazione visibilmente danneggiata, ma anche di aver saputo soltanto il giorno prima la decisione dei doppi turni per la primaria con orari pomeridiani già dal primo giorno di scuola. Da settimana il presso scolastico di Via De Chiara al centro delle polemiche per via dell'accorpamento dell'infanzia della Giovanni Pascoli al secondo circolo didattico, reso necessario dal fatto che alcuni locali della struttura scolastica sono destinati a uso commerciale. A questo poi si sono aggiunti i lavori di adeguamento e manutenzione disposti dal comune all'interno della scuola che hanno inizialmente rinviato l'inizio delle lezioni. Sebbene i cancelli della Linguiti abbiano riaperto regolarmente ieri mattina, resta però ancora da chiarire quando gli interventi giungeranno a termine se entro domani come previsto. Fino ad ora però permangono l'incertezza e l'amarezza dei genitori.